Saranno 200.000 euro i contributi per la cultura messi a disposizione della provincia sul 2023. Ad essere finanziati saranno eventi culturali di particolare rilevanza e con una significativa ricaduta sulla comunità provinciale, ma anche progetti di scavo e conservazione archeologica. Due bandi per i quali si potrà presentare domanda entro il 3 febbraio prossimo. Il primo prevede il finanziamento di rassegne musicali, cinematografiche e teatrali, festival culturali e mostre di Valenza Provinciale, organizzati da enti non profit. Il contributo sarà di 20.000 euro su una spesa minima di 40.000. Un altro bando sosterrà gli enti locali nella prosecuzione di progetti di scavo e conservazione archeologica, con contributi di 20.000 euro su una spesa minima di 30.000. La pubblicazione di questi bandi è l'occasione per tornare a sostenere la cultura nel nostro territorio e incentivare enti locali e non profita a investire energie e risorse in questo fondamentale settore, afferma il consigliere provinciale delegato Omar Iacomella. È importante far sentire che la provincia è al loro fianco e che crede in un rilancio delle nostre comunità legato al patrimonio e alle attività culturali. Nella valutazione delle domande sarà dato un particolare peso al coinvolgimento dei giovani negli eventi culturali e nel caso degli scavi archeologici al collegamento con la ricerca universitaria e all'attività di divulgazione dei risultati. I bandi e la modulistica sono disponibili sul sito internet della provincia.